con previsioni al ribasso. Titolo che troviamo anche nel Corriere dell'Umbria, Marchionne assicura non chiuderanno gli impianti. Allora vi presento subito il nostro ospite collegato con noi dalla sede RAI della Lombardia. Buongiorno a Giorgio Airaudo, segretario nazionale della FIOMCGL, responsabile del settore auto. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei dalla sede di Torino. Allora innanzitutto una prima rapidissima secca domanda. Marchionne dice non chiuderemo gli stabilimenti, lei tirerebbe un sospiro di sollievo? No ma guardi io non ci ho mai creduto che lui chiudeva gli stabilimenti anche perché Marchionne è vittima dei suoi annunci e lui che aveva detto al Corriere della Sera che ce n'erano due di troppo. Non è la prima volta che Marchionne ci abita a queste ballon de sé, inventa delle cose per poi costruire come si dice un evento che li modifica, è un bravo comunicatore di finanza e di comunicazione se ne intende, sui prodotti deve ancora dimostrarlo. Lei ieri ovviamente non era presente al tavolo con i sindacati in cui Marchionne peraltro ha parlato di un nuovo piano industriale che però richiederà ancora 24 o 36 mesi per decollare. un suo giudizio, peraltro già anticipato, lei ha detto insomma come al solito impegni troppo generici e soprattutto mancano le date. Ma sì guardi intanto noi ieri non eravamo al tavolo perché la Fiat sta sostenendo un principio per cui al tavolo ci va solo chi firma gli accordi. Secondo noi questa cosa è in violazione delle leggi e al limite e oltre la Costituzione italiana, per questo abbiamo molti procedimenti in tribunali, più volte la Fiat è stata condannata per attività antisindacale e alla fine sarà la Corte Costituzionale ad esprimersi. Però il piano possiamo giudicarlo, Marchionne è passato da un piano Fabrica Italia che prevedeva 51 modelli, 35 nuovi, gli altri erano come si dice dei rinfrescamenti, dei refreshing di modelli dell'auto, ha un piano di 17, diluito del tempo, questi 17 modelli sono tutti già noti, semplicemente si faranno in là e più tardi, il vero cambiamento è il cambiamento di missione. Lui ci aveva promesso, aveva promesso al paese un milione e duecentomila vetture, adesso ci dice che non possiamo più essere dei produttori generalisti, cioè produrre qualunque tipo di auto, possiamo, sacrifichiamo per questo il marchio Lancia e dobbiamo produrre per l'alto di gamma, il premium, per il lusso. Ora che questa idea sia in grado di rioccupare tutti i lavoratori è da dimostrare che poi si possa esportare da qua e vendere nei mercati ricchi e altrettanto da conquistare. E poi a me colpisce che si dica che non si chiude nessun stabilimento, dimenticandosi che l'Irisbus ad Avellino e Termini Merese a luglio, se non avranno una soluzione industriale, sono tutti dipendenti della Fiat e sono stabilimenti in cui la Fiat deve decidere se licenzia o non licenzia e quindi non chiuderà stabilimenti ma di sicuro se non ci sono soluzioni si prepara a licenziare e questo secondo me non può essere taciuto. Diciamo che già a Pomigliano è stato annunciato un nuovo periodo di cassa integrazione dal 26 novembre al 6 dicembre, è solo una spia di quello che potrebbe aspettarci da qui al 2016? No ma guardi, se prendiamo sul serio il piano di Marchionne è evidente che lui dovrà riorganizzare e ristrutturare perché decidere di fare il SUV a Melfi senza dire quale sarà l'erede della Grande Punto vuole dire che non è detto che tutta la mano d'opera serva, è evidente che a Pomigliano sono entrati solo 2.400 lavoratori, ce ne sono altri 2.000 fuori della vecchio Giovanni Battista Vico che devono rientrare entro luglio e anche lì non si sa se lui li farà rientrare o non li farà rientrare, noi pensiamo che debbano rientrare tutti come lui aveva scritto negli accordi, quindi la mia sensazione è che questo cambio di missione degli stabilimenti italiani da una grande produzione di massa a delle produzioni di nicchia a maggior valore aggiunto preparino e annuncino una futura imminente ristrutturazione, per cui forse non chiuderà per adesso ma intanto di sicuro riorganizzerà e ristrutturerà e i lavoratori sanno che quando si riorganizza e si ristruttura qualche posto di lavoro rischia di crescere, per adesso il suo piano prevede che nel 2013 e nel 2014 continui la cassa integrazione, ecco perché ho parlato più di previsioni e di oroscopi visto che il grosso dei nuovi modelli che lui propone si concentra nel 2015 e il 2016 che per il mercato dell'auto è davvero parlare di un futuro abbastanza lontano. Ecco e a conferma di questo ieri sono usciti i dati sulle previsioni che danno una produzione ridotta dai 6 milioni si passa a poco meno di 5 milioni di veicoli. È uscita anche una voce che poi è stata subito smentita su una possibile fusione in Europa con Peugeot e con la Opel. Secondo lei in realtà quanto credito ha e che cosa si sta muovendo? Guardi, tutti si parlano con tutti, secondo me non è neanche finita ancora la richiesta da parte di Volkswagen di acquistare il marchio Alfa da parte della Fiat. Il numero, le sette vetture Alfa che Marchionne si propone di produrre in Italia nei prossimi 4 anni a me sembrano anche una trincea difensiva intorno a questo marchio che lui non è stato in grado negli ultimi 8 anni di sviluppare e di rilanciare. Ci ha sempre promesso in tutti i piani che avrebbe venduto 300 mila auto e non c'era la grande crisi, non ci è mai riuscito, non ci è mai arrivato. Quindi credo che tutti si parlano con tutti. L'idea che si formi una grande spectre europea dell'automobile io lo ritengo poco credibile. Parliamo di imprese private, parliamo di concorrenti. In ogni caso faccio notare che se noi sommiamo facendo un gioco Peugeot, Chrysler e General Motors in Europa arriveremo a circa un 25% del mercato dell'automobile. Volkswagen da sola al 28%. Anche questo sarebbe come si dice, mi sembrano come si dice delle suggestioni comunque. Allora la prego di restare con noi, ora un piccolo break con gli aggiornamenti delle notizie e poi torniamo subito dopo di nuovo a Torino per continuare la nostra conversazione. Torniamo subito allora a collegarci con Torino. Giorgio Airaudo è sempre lì con noi. Allora una prima considerazione su questo dato, davvero record della disoccupazione, 2 milioni e 700 mila italiani senza lavoro, il 35% dei giovani senza un'occupazione. Ma guardi, questi dati urlano vendetta a chi in queste settimane sta chiedendo a quelli che hanno lavoro di restare più a lungo al lavoro avendo cancellato le pensioni d'anzianità avendo portato il limite quasi ai 70 anni e grida vendetta rispetto a chi chiede a questi che staranno più a lungo al lavoro di lavorare per più tempo, di essere disponibili a lavorare per più ora alla settimana, al mese, all'anno, a ridurre le ferie. Qua abbiamo bisogno di costruire nuova occupazione ma di dividere e distribuire il lavoro che c'è, non di far lavorare di più i pochi che hanno il lavoro e che sono ricattati dalla paura di perderlo. Airaudo, vorrei tornare con lei su questo piano annunciato da Marchionne. Prima dicevamo cambia di fatto la mission degli stabilimenti italiani, si produrrà per l'alta gamma, ma questo in termini concreti per gli operai cosa significa? Come potrebbe cambiare il loro lavoro? Ma guardi, intanto vuol dire riorganizzare e ristrutturare perché Marchionne aveva irrigidito la missione produttiva degli stabilimenti. A Pomigliano si fanno le piccole, il segmento A, a Melfi si fa il segmento B e a Mirafiori si faceva un po' di tutto, a Cassino dal C in poi. Quindi vuol dire rimischiare le carte, vuol dire riorganizzare, vuol dire comunque altra cassa integrazione. Poi bisogna che questi prodotti che richiedono più lavoratori delle utilitarie occupino davvero tutti i lavoratori che ci sono, perché un po' di lavoro in più c'è a fare un'auto di gamma medio alta. Poi però bisogna anche che ci siano i volumi, che il mercato compri quelle auto, che quelle auto vengano vendute, bisogna che funzioni questa idea di produrre in Italia e esportare negli Stati Uniti, cosa che francamente credo che dipenda anche da come finiscono le elezioni americane, cioè se vince un Presidente democratico o repubblicano, vista la polemica anche di queste ultime ore che riguarda proprio Fiat e Chrysler. Mi permetta però di aggiungere un'ultima cosa, ieri c'è nel comunicato della Fiat una cosa secondo me gravissima, cioè la Fiat invita gli altri sindacati a schierarsi contro le sentenze dei tribunali che la dichiarano antisindacale o che dicono che discrimina come nel caso di Pomigliano. Io mi voglio augurare e spero che sia così che nessun sindacalista si faccia ruolare in questa operazione di crumiraggio contro la magistratura e a favore dell'antisindacalità, però trovo grave che nel loro comunicato si chieda di collaborare contro le minoranze nemiche dell'azienda e del Paese. Noi siamo un sindacato che rappresenta molti lavoratori e la Fiat che nega questa rappresentanza e i tribunali la stanno dichiarando antisindacale per quello. Airaudo un'ultima domanda so che deve scappare, la prossima settimana Marchione dovrebbe tornare a sedersi al tavolo con il governo per discutere di aiuti agli esportazioni, un po' quello che era uscito dal vertice a Palazzo Chigi con Monti, basterà questo secondo lei? Adesso a me sembra abbastanza evidente che quegli incontri da cui non preparavano indiscrezioni sono incontri in cui c'è stato uno scambio temporaneo, cioè Marchione che aveva minacciato di chiudere gli stabilimenti, evidentemente ha promesso al governo che per adesso non li chiude, si inventa un piano molto azzardato e va in cerca, come si dice, di una forma di sostegno. La cosa che a me preoccupa è che non c'è nessun accordo, mentre in tutti i Paesi del mondo la Fiat negozia i suoi impegni industriali, negozia i suoi contributi e prende impegni occupazionali, in Italia si vanta di volere le mani libere, ancora ieri il piano presentato non è un piano negoziato, né col governo né con i sindacati, i sindacati sono stati informati, quelli che sono stati convocati, per buoni ultimi, dopo il CDA, dopo gli analisti, quando si sapeva già tutto, non so come dire, il piano continua a essere della Fiat, solo della Fiat e non è discutibile da nessun altro che della Fiat, io penso che il governo dovrebbe invece verificarlo, criticarlo, discuterlo e poi garantire degli impegni alla condizione che si garantisca l'occupazione e ci sarebbe un'ultima novità, sarebbe meglio fare come negli Stati Uniti dove Marchionne i soldi a Obama e all'amministrazione americana e ai cittadini americani li ha restituiti, piuttosto che avere dei contributi a perdere. Grazie, grazie Giorgio Airaudo, segretario della Fiam CGL, responsabile del settore auto. E ora è un passo dal licenziamento. I dipendenti dello stabilimento campano sono più di quelli che servono a un mercato italiano ed europeo da mesi in crisi, hanno già fatto 20 giorni di cassa integrazione e altri 10 sono programmati per fine novembre. Questo scrive Fiat il giorno dopo di un riassetto che conferma tanta cassa integrazione per tutti gli impianti in Italia, almeno fino al 2016. Quella di Fiat è una scelta vergognosa per coprire la cune di un piano industriale che non c'è. La critica dura che arriva dalla CGL per cui i licenziamenti sono un ricatto inaccettabile. Preoccupati anche i sindacati che hanno detto sì a Marchionne, per cui la Fiat sbaglia a reagire così duramente a una sentenza che giudica ingiusta, perché ora si rischia uno scontro più grave che mette a rischio i diritti dei lavoratori. Noi siamo in collegamento telefonico con Giorgio Eraudo, come dicevamo, responsabile del settore auto della FIOM. Buongiorno Eraudo. Buongiorno a voi. Allora, questa nuova presa di posizione della Fiat dice perché per causa vostra deve mettere in mobilità 19 lavoratori. Una sorta di rappresaglia, anche una guerra tra poveri però. Guardi, è sicuramente una rappresaglia la sentenza del Tribunale di Roma che giova a ricordare sana una discriminazione, perché dice che non si può assumere tenendo conto delle tessere sindacali. È anche un'azione antisindacale. Io credo infine che sia anche un provvedimento illegittimo. Non si può licenziare perché un Tribunale sana una discriminazione. Questo non lo consente la legge italiana, quindi io non credo che loro possano dare corso e noi comunque respingiamo quel licenziamento. Poi diceva lei è una guerra tra poveri. Guardi, io temo qualcosa di peggio. Temo che i 19 vengano usati come un pretesto perché in verità la Fiat non è in grado di far rientrare a Pomigliano i 2300 lavoratori che sono ancora in cassa integrazione nel vecchio stabilimento, il Giovanni Battista Vico, che dovrebbero rientrare entro luglio perché finisce la cassa. Allora temo che si stia cercando l'incidente, si stia mettendo contro i lavoratori che sono entrati e i lavoratori che sono ancora fuori in attesa. Quindi i 19 sono un pericoloso pretesto. Io credo che tutti i sindacati debbano respingere i licenziamenti come tutti i sindacati respingono le chiusure. La Fiat di Marchionne sta cercando di cambiare la natura del sindacato italiano, vuole arruolare i sindacati nella gestione del personale. Io penso che i sindacati italiani tutti insieme non debbano consentire questa divisione dei lavoratori ulteriore. Airaudo, questa presa di posizione della Fiat avviene all'indomani della presentazione di una sorta di piano industriale, in realtà un piano di transizione, la presentazione di 17 nuovi modelli, che però anche quello voi contestate. Ma guardi, io registro solo che tre anni fa c'è stato detto che avremmo prodotto 1.200.000 vetture se i lavoratori si tagliavano le pause, facevano i turni, chiedevano, erano disponibili a fare straordinario per 200 ore all'anno in modo obbligatorio. Quel 1.200.000 auto non sono mai arrivati, adesso si cambia tutto. Si dice che dobbiamo fare l'alto di gamma, ma non si spiega se l'alto di gamma garantirà l'occupazione. Il grosso dei prodotti sono spostati lungo il 2015 e il 2016, quindi il 2013 e il 2014 vuole dire molta cassa integrazione negli stabilimenti. Francamente credo che il governo chieda alla Fiat di chiarire la sua volontà e i suoi impegni e serve per una volta non il piano di Marchionne o della Fiat, serve un piano condiviso dal Paese, sottoscritto dalle parti sociali, uno di quei piani che la Fiat firma in tutti i paesi del mondo, ma che si ripiuta di fermare in Italia, dove scarica tutte le sue contraddizioni e tutta la mancata produzione sugli ammortizzatori sociali, che è utile ricordarlo, sono dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie, grazie Giorgio Airaudo, responsabile del settore auto della FIOM. Ma noi dobbiamo parlare di un'altra vicenda importante e grave per le implicazioni che potrà avere. Oggi, come un comunicato, la Fiat ha fatto sapere che a seguito di quella decisione della magistratura di ordinare l'assunzione degli operai aderenti alla FIOM nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, l'azienda sarà costretta a licenziare 19 lavoratori, tra quelli che già lavorano nell'impianto. Ed è stato subito, ovviamente, un insieme di clamore, polemiche, proteste e anche duri giudizi nei confronti dell'azienda di Marchionne. Inmediata la reazione dei rappresentanti di FIOM CGL, primo tra tutti il segretario nazionale Landini. È un atto contro la Costituzione del nostro Paese ed è un atto totalmente illegittime grave a cui bisogna rispondere da parte di tutti i sindacati perché così si mette in discussione la libertà delle persone.